Chiuse le indagini per 5 componenti della famiglia Moretti, noti imprenditori nel settore del vino e della moda, finiti al centro di un'inchiesta della Guardia di Finanza di Arezzo per autoriciclaggio. Nell'atto firmato adesso dal PM Marco Dioni, all'accusa iniziale si aggiunge quella di bancarotta fraudolenta e si contestano anche vari reati fiscali. Nella ventina di pagine dell'avviso di conclusione indagine si sintetizza così la lunga e complessa indagine, 16.000 le pagine del fascicolo che nel novembre 2018 aveva portato al blitz delle fiamme gialle. La Guardia di Finanza in questo anno e mezzo ha continuato ad approfondire le carte e con gli avvisi di chiusura e indagini la procura adesso ha delineato nuove accuse nei confronti di amministratori e prestanome. Al patron del gruppo Antonio Moretti, ai figli Andrea, Alberto e Monica, alla sorella Giovanna e agli stretti collaboratori Marcello Innocenti e Paolo Farsetti è contestato il reato di associazione a delinquere. Altri reati contestati sono autoriciclaggio per circa 25 milioni, appropriazione in debita ed infine bancarotta. Spunta inoltre adesso anche un nuovo indagato. Si tratta di un sommelier accusato di aver emesso una fattura falsa da 20.000 euro in favore di una società di Moretti. Secondo l'ipotesi accusatoria sostenuta dal PM Marco Dioni, quello creato dalla famiglia era un sistema articolato e complesso di società intestata prestanome, facendole partecipare da altre società ubicate all'estero ma gestite di fatto dall'Italia, utilizzandole così per scopi estrani, per spese personali, per investimenti nel settore agricolo, tessile e immobiliare, utilizzando lo schermo societario. Si parla di una distrazione di oltre 10 milioni di euro dai conti di società poi fallite, tutti fatti commessi secondo l'accusa dal 2009 al 2018. Adesso i legali avranno 20 giorni di tempo entro i quali presentare le memorie difensive.